Ingegnere Mengali, come valuta il progetto LIFE Hero Tile? È stato un progetto di una durata di 4 anni di successo, sono riusciti bene o male a raggiungere tutti gli obiettivi che si erano prefissati e addirittura, cosa non scontata all'interno di un programma come LIFE, sono riusciti a immettere sul mercato il prodotto sviluppato giusto alla fine del progetto e quindi a creare anche un impatto da un punto di vista economico per le ditte coinvolte. Il progetto LIFE Hero Tile è riuscito sia a risolvere e affrontare tutta una serie di tematiche ambientali che appunto per il programma LIFE che si concentra sull'ambiente è una cosa molto importante ma anche a inquadrarle in un contesto di mercato e quindi appunto a costruire e sviluppare una tegola che poi in effetti verrà prodotta e venduta e potrà avere un impatto su larga scala e non rimanere solo all'interno di un'idea progettuale. Soprattutto in un mercato come quello delle tegole che è un mercato molto ampio e quindi nel caso in cui i risultati del progetto venissero replicati su larga scala potrebbero avere un impatto quantitativo molto importante a livello europeo.